Da qui non mi muovo, risponde così Giorgio Pucci, l'occupante senza titolo di via Ferdinando Martini, davanti all'ordinanza di sgombero immediato giunta a lui e alla sua famiglia. Lunedì scorso Pucci, con l'aiuto dei militanti di Forza Nuova, aveva occupato un appartamento popolare sfitto per poter vivere finalmente insieme alla compagna e ai tre figli minorenni da cui era stato separato, ma l'ordinanza parla chiaro, adesso se ne devono andare. Io intendo di resistere a oltranza perché non ritengo giusto che la mia famiglia non ha una vita dignitosa, la mia famiglia finisce in mezzo a una strada. Ora io non mi muovo di qua, mi è arrivata stamani la comunica di abbandono della loggio esecutivo e il comandante quando ha visto che non sono intenzionato e non ho nessuna intenzione di andarmene, ma ha intimato di uscire, se no avrebbe mandato le forze dell'ordine per lo sgombero. Io a questo punto non so cosa fare, chiedo l'aiuto dei cittadini perché mi sembra che praticamente non è più una questione tra la mia famiglia e l'amministrazione, il comune e gli assistenti sociali, ma che sia diventato praticamente uno scontro politico tra l'amministrazione comunale e i ragazzi di Forza Nuova che stanno aiutando una persona che ha bisogno di una casa. L'appartamento di via Martini deve restare chiuso perché è inagibile, metterlo in sicurezza non è un'operazione automatica e costa troppo, ci sono regole e vanno rispettate. E' secca la risposta del vice sindaco di Massa Martina Nardi sulla vicenda, la paura spiegano dal comune è che scatti un processo di emulazione, tanto infatti le persone ancora in difficoltà e senza un alloggio, un'emergenza abitativa che cresce giorno dopo giorno e che secondo Forza Nuova va combattuta senza allentare la presa. Se Giorgio dirà che non vuole abbandonare la casa, noi in tutti i modi con il nostro sforzo fisico non lo permetteremo.